Sono Rachele dell'Anteas di Macirata, vi racconto come erano le famiglie tanto tempo fa. Tanto tempo fa la famiglia era molto numerosa, erano composte di tante persone, c'erano i vecchietti che erano i bisnonni, poi c'erano i nonni, le mamme di papà e infine i figli. Vi erano anche le zie e gli zii che avevano altri bambini, cioè i cuginetti. Anche la mia famiglia era così grande, eravamo dieci persone. Io sono stata la prima nipotina. Quando la mia mamma mi aspettava, tutti speravano che io fossi un maschietto, così, diventato grande, sarei stato un uomo forte che poteva lavorare in campagna. Quando sono nata ed hanno scoperto che ero una femminuccia, ci sono rimasti tutti un po' male. Però la mia bisnonna, che si chiamava Angela, mi ha voluto subito un sacco di bene. Suo marito, il bisnonno Giuseppe, per tanti giorni non li voleva vedere. Solo quando ero era da solo e nessuno si accorgeva, si avvicinava alla culla e mi guardava. Un giorno, tornando dal lavoro dai campi, arrivò con un regalo per me. Con le sue mani aveva costruito una piccola conocchia, un oggetto che serviva per filare il vino. Da quel giorno si è innamorato di me. Sapete come mi chiamava? La mia bella farfallina. Per la mia nascita, fecero costruire dal famigliame una culla, che io ho ancora con me. Dopo che la mamma mi aveva dato il latte, mi metteva nella culla, mi copriva con una copertina e diceva a nonna Angela di cullarmi. Allora la nonna con un piede mi cullava. Con le mani faceva la maglia e mi cantava una nonna mamma. nonna nonna mamma, prendimi con te. Nel tuo letto grande, solo per un po'. Una nonna nonna, io ti canterò. E se ti addormenti, mi addormenterò. nonna nonna mamma, l'insalata non ce n'è. Sette le scodelle sulla tavola del re. nonna nonna mamma, ce n'è una anche per te. Dentro cosa c'è? Solo un chicco di caffè. nonna nonna. Quando sarò grande, comprerò per te. Tante cose belle, come fai per me. nonna nonna nonna. Chiudi gli occhi e sogna quello che non hai. I tuoi sogni poi mi racconterai. nonna 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 mamma, l'insalata non ce n'è. Sette le scodelle sulla tavola del re. nonna nonna mamma, ce n'è una anche per te. Dentro cosa c'è? Solo un chicco di caffè. ci mettiamo su tutto quello che vuoi tu. Ci mettiamo su tutto quello che vuoi tu. ci mettiamo su tutto quello che vuoi tu.